A Nangrigento da domenica 27 agosto a domenica 3 settembre si svolgerà la settima edizione del Master di scrittura organizzato dall'Associazione Strada degli scrittori, diretta da Felice Cavallaro in collaborazione con la Fondazione Treccani Cultura e Treccani Accademia sul tema Le parole della musica. Ascoltiamo lo stesso Felice Cavallaro. Sono qui con Andrea Camilleri nella piazzetta dello scrittore Il Cuore di Agrigento per invitarvi a partecipare al Master di scrittura che anche quest'anno la Strada degli scrittori organizza con Treccani al Polo Culturale San Lorenzo, quindi in questa magnifica chiesa messa a disposizione dal Vescovo Alessandro Damiano, dal Monsignor Pontillo e lì dal 27 agosto al 3 settembre ogni giorno lezioni, laboratori con cantanti, cantautori, musicisti, scrittori. Perché? Perché il tema sarà le parole della musica, le parole e i versi di questi nuovi poeti che sono appunto i cantautori, i musicisti. Un modo per avvicinarci alla poesia attraverso la scrittura e imparare a capire che cosa significano anche le canzoni, quelle d'amore con Claudio Baglioni che sarà presente in streaming, a tutti gli altri che saranno presenti qui ad Agrigento, compresi tanti rapper che ci raccontano i problemi di oggi. E oltre ad avere lezioni e laboratori mattina e pomeriggio al Polo Culturale San Lorenzo, sempre nella stessa magnifica cornice di San Lorenzo, la sera, ogni sera avremo il Festival della Strada. Perché tutti i cantautori di cui ho parlato, ma anche Peppe Servillo, Ibla, Mario Incudine, Lello Analfino e tanti altri, ogni sera parteciperanno a questo Festival della Strada degli Iscrittori che consentirà anche di costruire una sorta di numero zero in vista di Agrigento, capitale della cultura 20-25. Per saperne di più, comunque vi invito tutti per il 16 agosto a un aperitivo alle 20.30 alla Colimbetra, dove quindi nel Giardino degli Dei che sta sotto il Teatro, il Tempio della Concordia, perché con gli amici del FAI, Federica Salvo, Pepe Lopilato, presenteremo i contenuti del Master di Scrittura e del Festival della Strada.